24 aprile memoria del genocidio armeno nel 2015 la chiesa apostolica armena ha canonizzato tutte le vittime più di un milione di uomini donne e bambini uccisi cent'anni prima dai turchi a causa della loro appartenenza etnica e religiosa malgrado la strenua negazione da parte delle istituzioni turche gli storici concordano nel qualificare questo accadimento come il primo genocidio moderno il 24 aprile è divenuto dunque giornata della memoria come annunciato da sua santità carichi il secondo patriarca armeno di costantinopoli 132esimo cattolicos di tutti gli armeni nell'enciclica con cui aveva aperto ufficialmente le celebrazioni del centenario nel mezzo iegern grande crimine oltre allo sterminio d'un popolo migliaia di chiese e monasteri vennero profanati e demoliti le istituzioni culturali e le scuole rase al suolo con l'intento di sradicare cancellare i tesori spirituali e culturali dei cristiani armeni nelle marce della morte che coinvolsero un milione duecentomila persone pochissimi sopravvissero a fame malattia sfinimento ma il coraggio della fede e il genio che caratterizza questo popolo disperso ma non distrutto ha saputo tornare a brillare come ha spiegato il patriarca celebrando la risurrezione riponendo la nostra speranza in te signore abbiamo continuato a vivere quando altri ci volevano morti anche la chiesa cattolica armena ha avviato la verificazione di alcune decine di suoi figli vittime del genocidio grazie a tutti